amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive oggi abbiamo una non tanto una macchina particolare perché questa è una mini normalissima quantomeno un caso particolare perché ogni tanto ci capitano anche delle situazioni dove il cliente ci chiede degli interventi di riparazione non è che facciamo solo elaborazione tante volte ci chiedono degli interventi di riparazione e la storia di questa macchina nasce dal fatto che più o meno un mese fa al cliente l'ha comprata da un concessionario multimarca che teoricamente avrebbe dovuto dargliela a posto di tutto controllata e tutto quanto il cliente si è fidato e ha comprato questa vettura poi dopo un pochino ce l'ha portata dopo circa un mesetto ce l'ha portata ce l'abbiamo in carico già da una settimana per vedere di fare una verifica effettiva su tutto quello che è la parte meccanica allora partiamo con le le cose più semplici che sono il discorso degli ammortizzatori assolutamente scarichi che abbiamo dovuto cambiare abbiamo messo dei semplici kayaba quindi non abbiamo montato degli ammortizzatori sportivi quindi ammortizzatori e tamponi degli ammortizzatori e questo diciamo che era l'aspetto meccanico più più evidente poi problema che quando ci ha portato la macchina la macchina al minimo si sente che ha un come dire un funzionamento non regolare quindi dallo scarico esce un fumo azzurrognolo e da lì ci si è accesa la spia per dire qui controlliamo vedere un attimo che cosa può essere quindi abbiamo fatto prima i vari controlli di compressione abbiamo provato a vedere il discorso dell'accensione che non fosse una bobina bruciata una candela bruciata morale dopo tutte le varie analisi che abbiamo fatto siamo arrivati alla conclusione che questo motore qui ha un grosso problema di mangia olio sostanzialmente quindi ha un problema sia sulla testa che probabilmente sulle fasce di un pistone quindi c'è un un doppio problema legato appunto alla parte meccanica interna del monoblocco quindi il problema è che non conviene da un punto di vista adesso abbiamo sentito il cliente e vediamo un attimo come muoverci al di là del fatto che lui doveva sentire questo concessionario per definire come comportarsi da un punto di vista economico noi dal nostro punto di vista se non il fatto di dare dentro la macchina e prendere un'altra che quella sarebbe l'ultima forse la soluzione migliore l'ultima l'ultima spiaggia se dovessimo intervenire per riparare la macchina non conviene tirare giù il motore ma andando in rettifica perché purtroppo la mini è una delle poche case che è molto dove è molto difficoltoso recuperare dei ricambi per cui ci siamo già trovati un'altra volta a portare la macchina in rettifica e a dover poi cambiare tipo strategia perché la mini non dava i pietelli valvole non dava i pistoni non dava le fasce cioè è un tipo di service con i ricambi completamente diverso rispetto ad altre marche quindi se dovessimo intervenire su un problema di questo genere la soluzione più logica è quella di prendere un motore di rotazione ci sono proprio delle ditte apposta che revisionano i motori quindi bisogna ovviamente prendere un motore con un seriale esattamente uguale a questi ma in maniera tale da utilizzare tutta la parte elettronica e danno appunto questo servizio dove forniscono il motore già revisionato quindi viene fatto uno swap come si suol dire in gergo viene tolto il motore che ha dei problemi e montato il motore già revisionato in alcuni casi queste ditte ti chiedono il preso del motore quello diciamo problematico perché a loro volta poi hanno sono chiaramente delle ditte molto più grosse hanno dei sistemi meccanici diversi e possono arrivare a fare appunto delle riparazioni che noi non riusciamo a fare per via della irreperibilità dei di alcuni componenti quindi come dicevo la macchina in se stessa è una macchina comunissima è una mini cooper che però presenta un problema che spesso spesso vediamo quindi attenzione andare a comprare macchine usate senza avere una una precisa certificazione con questo non voglio colpevolizzare i concessionari multimarca però sinceratevi bene prima di prendere una macchina perché una macchina come questa che teoricamente adesso va bene l'ammortizzatore scarico ci può ancora stare ma se mi vendi una macchina a un cliente con un cilindro che non che non va che va a tre in sostanza vuol dire che o non sai fare bene il tuo mestiere o cerchi di prendere in giro il cliente quindi mi raccomando prima di fare qualunque acquisto fatela controllare bene si può anche potete anche dire tranquillamente al concessionario che la fate visionare a un meccanico di fiducia possiamo essere noi può essere un qualunque altro meccanico in sostanza non fidatevi delle parole perché tante volte vi troverete poi a dover combattere a dover risolvere un problema che è molto più grosso rispetto a quello di una normale riparazione che ci sta su una macchina che appunto usata vi direi che anche per questa piccola storia è tutto per qualunque tipo di informazione come dico sempre contattateci in sede allo 027383175 consultate il sito www.nomemilagiri.it cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo eventualmente in una delle prossime se il cliente deciderà di si accorderà con il concessionario e deciderà di fare la riparazione magari faremo un'ulteriore puntata per descrivere qual è stata la soluzione che avremmo adottato e come sarà avvenuto poi il lavoro finito. Un saluto alla prossima!